Ennesimo incidente nel Biellese con esito gravissimo, investimento mortale nel tardo pomeriggio di ieri a Candelo, a subire il tragico epilogo un pensionato di 83 anni, Francesco Gambin, che poco prima delle ore 19 stava attraversando in compagnia della moglie in via Sandigliano, all'angolo di via San Lorenzo. Quando è stato travolto da una Fiat Panda guidata da una donna di circa 40 anni, anche lei residente in paese, sulle cause dell'investimento stanno ora indagando le forze dell'ordine ed in particolare i carabinieri di zona. L'impatto per l'uomo è stato devastante, mentre la sua compagna sarebbe rimasta praticamente illesa, forse è stata solo sfiorata lievemente dalla vettura. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato inutilmente di rianimare l'uomo. Troppo gravi purtroppo i traumi riportati. Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri, l'anziano potrebbe aver attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali, mentre la donna alla guida dell'auto potrebbe evidentemente non averlo visto.